amici michele tg sui che eccoci qua nuova intervista oggi un'intervista a suico ma riguardo un'attività una realtà di biassono prima domanda sempre domande prima personali nome e cognome walter davide cansi numero di candeline sulla sua ultima torta di compleanno 70 formazione scolastica diplomato in ragioneria ok che libro sta leggendo attualmente ma adesso non sto leggendo per mancanza di tempo quadro e artista preferito poi voi capirete meglio dopo il perché la notte stellata di van gogh come come mai perché mi piace van gogh genere che suo stile suo modo di dipingere e poi è stato uno diciamo che ha creato un collegamento tra un vecchio stile un'avanguardia nuova un post impressionismo che ha aperto diciamo la via altri pittori che poi si sono affermati grazie anche a questo suo questa sua rivoluzione diciamo ok un piatto che le ricorda la sua infanzia risotto uno in particolare risotto giallo zafferano risotto come mai perché mia nonna io ho vissuto tanto con mia nonna mi ha cresciuto lei e mi faceva sempre il risotto ok un luogo che le ricorda la sua infanzia via sono diciamo via sono sono cresciuto con con i nonni se potesse conoscere una persona del passato chi sceglierebbe perché mia nonna perché un affetto che non è mai passato con lei ok allora è finita la prima parte con le domande personali ma ci rientra poco perché l'intervista continua e continua l'intervista ovviamente adesso domande lavorative quindi domande sul gruppo nome del gruppo gruppo pittori biazzonesi associazione gruppo pittori biazzonesi in che anno siete nati è nato 30 anni fa come gruppo però è diventato un'associazione il 15 aprile del 2010 dove vi trovate ci troviamo in villa monguce dove abbiamo una sede legale a biazzone ovviamente chi ha pensato il gruppo ciò chi ha ideato il gruppo e perché proprio biazzonesi e non magari di altri paesi i due che hanno fondato il gruppo giova giovanni cassamagnago e il gigno sala erano di biassono quindi hanno detto facciamo un gruppo di di biazzonesi per un periodo ingaggiavano soltanto pittori biazzonesi quindi poi nel tempo era sempre erano erano pochi per cui non riuscivano a reclutare nessun altro allora hanno pensato una buona idea anche di espandersi nei paesi limitrofi e adesso è un'associazione che non è più solo di biazzonesi ma anche di altri paesi e qua ne abbiamo una di fianco che non so se si vuole far vedere va beh dai sì fatti vedere di il tuo nome io sono rosita e sono proprio di sovico quindi sono nativa qui però ho incontrato il gruppo pittori biazzonesi sono molto contenta di questa scelta e con loro facciamo una serie di iniziative che poi valper gli spiegherà fantastico non abbia neanche provata quindi è stato proprio naturale avete dei giorni o degli orari in cui incontrate in particolare ci incontriamo il primo giovedì di ogni mese escluso il mese di luglio e di agosto ok quanti siete nel gruppo e poi vi chiedo c'è anche un'età diciamo minima per entrare nel gruppo no non c'è nessuna età minima e attualmente siamo 24 quindi insomma neanche pochi ok bene complimenti allora adesso domanda molto libera domanda aperta ci racconta racconti un po di voi ecco e di che cosa fate nello specifico cioè ovviamente vabbè a parte dipingere però sì diciamo che fondamentalmente a parte dipingere diciamo ognuno poi dipinge per conto suo non abbiamo un posto in cui trovarci dove confrontarci attraverso la pittura direttamente quando ci troviamo cerchiamo di organizzare degli degli eventi quindi mediamente organizziamo 4 5 eventi all'anno l'evento principale è la collettiva chiamata di primavera anche se adesso in epoca covi la facevamo anche in autunno però diciamo solitamente storicamente è una mostra che facevamo ad aprile maggio giugno quindi nel periodo proprio primaverire è la mostra più importante la mostra identitaria ogni mostra che facciamo è una mostra a tema decidiamo un tema e sviluppiamo tutti tutti e 23 24 quelli che sono gli artisti lo stesso tema proprio perché attraverso lo stesso tema c'è più possibilità di confrontare l'idea proprio sullo stesso tema questa mostra è accompagnata da un catalogo dove vengono illustrati tutti i quadri e delle didascalie anche dei commenti sul quadro stesso dell'autore ok non c'è più tempo ma ci vediamo tra poco e continua l'intervista ma la risposta non è finita prego oltre alla mostra collettiva di primavera abbiamo inserito nel nostro programma in occasione della fiera di san martino che l'11 di novembre una mostra sempre a tema quest'anno abbiamo sviluppato il tema dell'autunno l'anno scorso abbiamo sviluppato il tema del proverbi e detti popolari l'anno prima in collaborazione con la parrocchia sempre su san martino che è il patrono della parrocchia di biassono abbiamo sviluppato il tema di san martino e la carità poi da qualche anno riusciamo a se troviamo le location per esempio quest'anno a maccherio organizziamo un evento contro la violenza sulle donne 25 di novembre quindi anche quest'anno a maccherio quel sabato 25 ci sarà l'inaugurazione quindi daremo vita a questo evento in collaborazione col comune di maccherio quindi questi sono un po' quelli che sono il programma degli degli eventi a volte riusciamo anche in occasione della festa patronale di biassono che è la quarta di settembre a fare delle mostre a tema a tema libero la cosa che vi gratifica di più diciamo così del vostro lavoro anche se poi questo non è un lavoro però la cosa che vi gratifica di più di questa iniziativa diciamo soprattutto quando facciamo le mostre a tema quindi lo stesso tema capire il confronto delle idee della capacità di esprimere quest'idea su uno stesso tema in maniera diversa tra i vari artisti questa è una cosa almeno per quanto mi riguarda personalmente poi non so cosa ne pensano gli altri io sono molto gratificato da questo dal fatto che c'è proprio questo confronto delle idee e poi della trasposizione dell'idea sulla sulla tela e ci dà anche la possibilità di confrontarci con gli altri ma anche con noi stessi perché è un modo anche per crescere per sviluppare diciamo delle altre idee in funzione di quello che può essere il tema prossimo insomma ecco questa è un momento di crescita secondo me personale ma anche di gruppo beh sì certo c'è un evento che avete fatto che vi che vi è rimasto di più nel cuore o che lei è rimasto più nel cuore non so ma a me è rimasto nel cuore particolarmente il tema che abbiamo fatto nel 2021 che è quello del mediterraneo una mostra sul mediterraneo tra l'altro era un tema che avevo proposto io nell'assemblea è stato votato quindi è passato come la maggioranza di tutti i soci e questo è mi ha gratificato molto perché mi ha dato la possibilità di anche di presentare diciamo intervento su quello che può essere l'aspetto del mediterraneo il mare che un mare mediterraneo che raccoglie civiltà che raccoglie culture che raccoglie contraddizioni che raccoglie la storia ma anche è un mare della modernità ogni sera anche nei giornali si parla di mediterraneo per quanto riguarda la questione migratoria o per quanto riguarda l'aspetto culturale civile cioè c'è sempre diciamo una questione che riguarda il mediterraneo quindi sono stato contento del vero proposto sono stato contento che è stato accettato e anche diciamo la il confronto tra tra i vari soci è stato un confronto molto positivo bene e ritorni c'è ancora tempo ok ritorniamo a parlare di quello che ha annunciato le prima cioè la mostra l'evento che state che avete organizzato che farete in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne ci dice qualcosa non so faccia pure uno spot per chi ci segue ce ne parli è un tema sicuramente molto sentito molto attuale molto importante perché se lei consideri che nei primi dieci mesi di quest'anno ci sono stati 100 femminicidi praticamente uno ogni tre giorni e di questi 176 sono in ambito familiare quindi questa è una cosa che ci deve fare riflettere molto e io penso che è chiaro che la pittura non è che può cambiare diciamo il corso degli avvenimenti ma secondo me la pittura soprattutto in una certa pittura magari riesce a farti riflettere a fermarti e a pensare sicuramente può chiaramente attivare c'è una piccola luce di speranza diciamo più che altro soprattutto negli uomini un senso di corresponsabilità sì vero non c'è tempo ma ci vediamo tra poco ben tornati all'intervista sempre per quanto riguarda questa mostra appunto mostra insomma diciamo molto importante altre cose a dire prego sì questa mostra che si chiama indifesa verrà inaugurata a maccherio presso la biblioteca civica sita in via via roma il 17 ci sarà il cadum di monza che il centro aiuto e donne maltrattato ci sarà presidente che dottoressa marirena arena la quale ci illustrerà le attività della sua associazione delle esperienze quotidiane che hanno le varie operatrici con con le donne e le ragazze poi ci saranno i carabinieri di biassolo i quali illustreranno alcune mosse alcune tecniche proprio basilari diciamo semplici di di autodifesa e poi ci sarà un assistente sociale del comune di maccherio la quale anche lei ci parlerà delle sue esperienze è presumibile che magari ci sia qualche qualche domanda anche da parte degli visitatori quindi la speranza è auspice quello che si crea anche un certo di un atmosfera di di collaborazione non di dibattito vero e proprio ma comunque un intreccio tra quello che sono le varie esperienze insomma è su tutto questo accompagnato da un sottofondo musicale e questo c'è solo il 25 novembre 25 di novembre la mostra poi sarà aperta anche domenica 26 novembre sabato 2 e domenica 3 dicembre e la possibilità di visitare la mostra anche in settimana nei giorni feriali con durante l'orario di apertura della biblioteca ok quindi insomma mi invito quello di partecipare mi raccomando poi altra domanda non avete mai pensato di fare un libro una sorta di raccolta con tutti i vostri quadri ma guarda una raccolta di tutti i nostri quadri sotto certi aspetti c'è già perché noi abbiamo proprio in occasione del trentesimo anniversario del nostro gruppo che abbiamo fatto quest'anno a giugno abbiamo fatto una raccolta di tutti i cataloghi che dall'inizio sono stati diciamo stampati e ogni catalogo affrontava un tema quindi abbiamo fatto proprio questa raccolta una raccolta l'abbiamo tenuta noi una raccolta di questi l'abbiamo donate la biblioteca di biassono quindi ogni ogni cittadino può consultare biblioteca di biassono quello che è stata la storia del gruppo pittori biassonese attraverso diciamo la consultazione dei vari cataloghi ripeto e ogni catalogo ha un tema di riferimento che hanno sviluppato i vari pittori che si sono pittrici che si sono succeduti nel tempo ok bello tre aggettivi per descrivere un pittore in generale non uno famoso ma una persona che ama dipingere e che lo fa magari tre aggettivi o tre aggettivi ma pittore deve avere una certa sensibilità su quello che che vede deve essere una persona secondo me molto attenta molto curiosa e di base poi avere la capacità e anche di di trasporre quello che diciamo la sua suo pensiero quello che perché poi la stessa soggetto magari viene visto in maniera diversa certo ok quindi attenta sensibile curiosa ok di base poi mille altre caratteristiche però ci vuole ci vuole tante cose insomma ci sta è una curiosità i vostri quadri possono essere acquistati si possono essere acquistati le nostre sono mostre espositive però diciamo che ogni pittore ogni pittrice può essere contattata da qualsiasi visitatore in privato e diciamo fare la trattativa sull'opera che il visitatore interessato a acquisire quante social il vostro gruppo e dove vi possono trovare i social su facebook adesso siamo su facebook e pensiamo adesso abbiamo stiamo facendo anzi è quasi ultimato un nuovo sito saremo quindi avremmo un sito di capitoli biazzonesi e a breve probabilmente all'inizio dell'anno prossimo pensiamo di andare anche su instagram e pubblicate i vostri quadri i quadri e gli eventi magari recensioni anche diciamo della stampa perché poi ci sono belli giornalisti magari che fanno dei trafiletti sui vari giornali giornali di karate cittadino quindi faremo diciamo il sito in un certo modo anche con con questi diciamo supporti da parte di alcuni giorni e poi gli eventi con le varie dei video anche se c'è la possibilità ogni evento avrà diciamo la sua storia per la catalogata quindi ognuno potrà attraverso i social andare a vedere quello che il gruppo sta facendo ok va bene non c'è più tempo ma ci rientra poco con l'ultima domanda bonus e siamo ritornati qua con l'ultima domanda come dicevo prima la domanda bonus allora l'influencer che vorreste per sponsorizzare il vostro gruppo come ambassador del vostro gruppo non ci so rispondere è un critico d'arte con d'arte sì sicuramente nome non è che ne conosca tanti voglio dire però non saprei suggerimenti dalla regia cioè regia no perché la regia è di là però no non saprei dire un nominativo però sicuramente un critico d'arte è forse la persona più a me non c'è sgarbi anche come critico d'arte no vabbè la faccia è diciamo che come figura di riferimento un critico d'arte essendo pittori chiaramente però se mi chiedi un nome specifico non so un'altra persona non influencer che non c'è neanche una persona zero no adesso vi auto rappresentate voi e questa è una bellissima risposta tra l'altro sì sì ci auto rappresentiamo noi ok piace complimenti non hai idee neanche tu no ok allora l'intervista è terminata io ringrazio però Walter appunto il presidente del gruppo di pittori biassonesi e mi raccomando l'invito qual è quello di partecipare alla mostra e non so alla mostra ma in particolare alla mostra del 25 di novembre contro per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne quindi mi raccomando partecipate deve aggiungere qualcos'altro in chiusura no no ok allora grazie mille ancora al gruppo dei pittori biassonesi per aver concesso questa intervista al TGC Week e noi ci vediamo prossimamente con una nuova intervista ciao grazie a tutti